L'avanzamento di una depressione determina il rinforzo del flusso umido di Scirocco sulle coste tirreniche della nostra penisola, nelle prossime ore rapido transito di un nucleo di aria fresca proveniente dalla penisola scandinava associato a venti da nord. Domenica 22 marzo in Toscana, cielo nuvoloso, molto nuvoloso, con possibilità di deboli precipitazioni sparse, lungo la dorsale appenninica, quota neve oltre 1200-1300 metri e sulle zone estreme e meridionali dove potranno assumere anche carattere di rovescio. Venti moderati, mari poco mossi, temperature stazionarie. Cielo coperto o nuvoloso su tutta la provincia di Lucca, nella Piana temperatura minima prevista a 7, massima 15 gradi, a Via Reggio in Versiglia minima 9, massima 16, a Castelnuovo e zone montane minima 5, massima 16.